Grazie, buonasera a tutti, io sono Alessio Argentieri, vi ringraziamo soprattutto dell'invito, della possibilità dopo tanto tempo di ricominciare, seppure in modalità mista, a fare eventi di questo tipo in presenza che per noi, per il tipo di attività che portiamo avanti è sicuramente un aspetto importante proprio perché tende alla condivisione. E d'accordo con il professor Carosi e il professor Carnevale abbiamo pensato di riservare un piccolo spazio introduttivo di questa giornata in cui è dedicata al tema del contributo del pensiero di Dante per la geologia a raccontarvi un pochettino l'attività che da quasi dieci anni portiamo avanti all'interno della Società Geologia Italiana. Il titolo che abbiamo è questo capovolgimento del principio dell'attualismo, cioè per noi il passato è la chiave del presente e del futuro, lo studio della storia delle nostre discipline non è solamente diciamo un vagheggiare l'età dell'oro, ma vedere proprio il contributo della geologia al progresso della cultura nazionale in tutti i campi. Noi non siamo degli storici, ecco siamo di diversa estrazione, siamo tutti e tre geologi, io sono un dirigente di un servizio tecnico di un ente locale, Marco Pantaloni come sapete è ricercatore Ispra, Marco Romano è ricercatore universitario, quindi il nostro approccio è da geologi non da storici della scienza. Per cominciare partiamo da una riflessione, questa è una frase che apre un volume pubblicato dai professori Vai e Cavazza nel 2003 in occasione del quattrocentesimo anniversario del conio della parodia geologia attribuito a Ulisse Aldrovandi, che era uno scienziato multiforme e quindi ci sono questi due interrogativi, cioè perché il primato italiano nello sviluppo della geologia tra il cinquecento e il settecento, che poi è stato riconosciuto anche da illustri geologi considerati universalmente i padri della geologia moderna e Charles Lyell in primis, si è poi stato dimenticato dagli stessi geologi italiani sia nell'ottocento che nel novecento e anche trascurato dagli storici della scienza e poi anche perché questo aspetto epistemologico è appannaggio, scusate la ripetizione, degli epistemologi, cioè nel campo degli studi umanistici, mentre invece gli scienziati hanno perso l'importanza del patrimonio della propria tradizione. Abbiamo citato, ecco, Charles Lyell che nella prefazione dei Principles of Geology nel 1830 dice questo, Geology has been an Italian science e lui si rifà a uno dei nostri lumi tutelari che è Juan Battista Brocchi, veneto anche lui dalla vita molto avventurosa e qui pezzi, passi interi della sua concheologia fossile subappennina sono menzionati e poi qui diciamo giochiamo in casa, non è per lisciare il pelo alla platea, ma la carta geologica delle Alpi Occidentali del 1908 realizzata dai quelli che noi chiamiamo i Fab Five della geologia italiana del primo novecento e citiamoli già che ci siamo, Domenico Zaccagna, Ettore Mattirolo, Secondo Franchi, Augusto Stella e Vittorio Novarese, quindi diciamo che anche questa viene riconosciuta come il capolavoro dei maestri del Reggio Ufficio Geologico, quindi della sezione di Torino. Se noi andiamo a vedere le vite degli altri, quello che viene fatto nelle altre discipline, gli ingegneri, i medici, i biologi, i fisici hanno una cultura della propria tradizione scientifica ben radicata, gli insegnamenti di storia della medicina nel corso di laurea in medicina e chirurgia forse sono degli, adesso non sono al corrente, saranno degli insegnamenti complementari, ma sono ben previsti negli studi. Questo è un aspetto importante nella formazione di giovani professionisti, ricercatori, insegnanti, quello che saranno. C'è un modello di riferimento ovviamente perché poi il primato è passato diciamo oltre la manica e quindi c'è l'History of Geology Group della Geological Society of London che è un modello interessante e noi ovviamente ci siamo ispirati. Anche facendo un'altra riflessione, chi adesso diciamo in passato quando era più difficile acquistare testi stranieri e bisognava andarseli a cercare all'estero, io ho sempre stato la mia passione andare nelle sezioni di Popular Science, di divulgazione delle librerie soprattutto nei paesi anglosassini dove c'è una pletora di titoli vari sulle nostre discipline, addirittura arrivando, come nel caso di Mary Hanning che diventa protagonista di un romanzo di finzione basata su storica e poi recentemente anche di un film in cui viene chiamata una star come Kate Winslet a interpretarla. Quindi in Italia che cosa abbiamo da questo punto di vista? Innanzitutto abbiamo un profeta di un'altra patria che è Walter Alvarez che per i suoi lavori fatti soprattutto in Appennino negli anni, negli anni settanta ha dedicato due libri proprio elogiando le figure dei geologi italiani che in quegli anni danno il loro contributo alla strutturazione, se non alla Genesi, ma alla strutturazione della teoria della tettonica globale dalle nostre parti. Per quanto riguarda il prodotto interno abbiamo un punto di riferimento che è l'unico trattato esteso ad oggi che è la storia della geologia di Bruno Accordi pubblicato nel 1984. Bruno Accordi lui era nativo di Varallo Sesia, studia a Padova in allievo di Giorgio Dal Piazza e poi sarà professore a Catani e poi imposterà a Roma negli anni sessanta e lui soprattutto nella parte finale della sua carriera si dedica a questi temi e ci ha lasciato questo questo testo che è di riferimento. E un altro qui, ve ne cito altri, anche sulla storia della geofisica, così per dare degli spunti di lettura, scritto da Franco Forresta Martin, che è giornalista, è stato firma del Corriere della Sera ed è un piacere membro della nostra sezione attivo. E da ultimo finalmente ecco c'è un volume recentemente pubblicato dalla Società Geologica Italiana che è ancora in attesa di una presentazione ufficiale che ha scritto proprio Marco Romano sull'aspetto inerente la paleontologia. Allora su queste basi si è pensato ormai dieci anni fa è possibile lasciare così a Wikipedia che è uno strumento eh democratico, libero, eccetera, ma così per per cercare la storia dei nostri geologi avere solo questo strumento e allora diciamo con spirito un po' avventuroso e Garibaldino abbiamo proposto a fine duemiladodici Marco Pantalone ed io a Carlo Toglioni che all'epoca era presidente della Società Geologica Italiana di istituire una sezione dedicata e Garibaldinamente è stata proposta e Garibaldinamente è stata accolta da Carlo che eh ringraziamo e mh oggi se ecco per chi ne vuole sapere basta andare sul sito della società a capire un po' eh gli estremi della nostra attività abbiamo una casella di posta elettronica che vedete in basso a destra e nel dicembre duemiladodici c'è stato un evento diciamo eh battesimo questa quando appunto all'assemblea questa usanza storica della società di collegare all'assemblea generale dei soci di dicembre poi una serie di conferenze eh di vario taglio e in quell'occasione abbiamo potuto eh dare il battesimo a questa iniziativa all'inizio eravamo in dodici mh ci ha fatto piacere diciamo riportare diciamo i i i i primi partecipanti no tra cui ecco il professor Giorgio Vittorio Dal Piazza che è stato il mentore della prima ora noi quando gli diciamo che il numero uno lui ci ripete sempre il proverbio veneto che dice numero uno capo di mille paronde nessuno diciamo ci ripete sempre questa però di questi dodici siamo poi andati eh ad accrescere il gruppo perché molti colleghi ci hanno poi contattato perché ognuno c'è un personaggio del cuore diventa veramente come un album di eh di figurine e quindi qua sulla vecchia carta geologica li abbiamo voluti distribuire un po' per per area geografica ovviamente c'è un premio in denaro per chi è in grado di riconoscerli tutti questi personaggi abbiamo cominciato a strutturare un nostro lemmario dei personaggi e abbiamo una cosa che nel nel mercato del fantacalcio possiamo vantare che la nostra categoria diciamo del scienze della terra scienze geologiche che le maradona ce l'abbiamo noi perché Leonardo è tante non penso che altre discipline possano annoverare entrambi questi due personaggi straordinari della cultura italiana eh diciamo arrogarci a caparla a caparrarseli e abbiamo cominciato anche un'azione di di proselitismo per cercare no di di coinvolgere persone anche di varia estrazione perché pensiamo e questo diciamo eh la visione eh condivisa diciamo da dal presidente della società geologia italiana Sandro Conticelli al consiglio direttivo comunque che la società geologia sia un luogo di tutta la comunità geologia italiana non solamente no dell'accademia o della eh ricerca pura della ricerca applicata ma anche degli insegnanti dei pubblici dipendenti dei liberi professionisti e anche degli degli amatori questo è un diagramma di qualche tempo fa in cui avevamo il numero dei nostri iscritti come vedete purtroppo noi siamo eh basati su Roma e quindi diciamo eh l'affiliazione è stata molto laziocentrica però adesso i dati sono diversi diciamo sono sono cambiati dobbiamo aggiornarli però in varie regioni siamo riusciti a avere un numero di affiliati che ha superato diciamola è arrivato in doppia cifra e e poi una cosa molto importante è che nel duemiladiciassette la la sezione è stata affiliata all'INIgeo cioè l'International Commission on the History of Geological Science e e con partecipazione da allora in poi ai vari eh convegni del dell'INIgeo. Le nostre fonti ovviamente sono le pubblicazioni di Società Geologica Italiana in cui c'è una lunghissima tradizione di ehm necrologi, commemorazioni, ricordi che eh da considerare un un patrimonio ne dico una su tutte veramente c'è passione andatevi a leggervi il la biografia di Bernardino Lotti scritta da Giorgio Marinelli che è un eh oltre diciamo la per come è scritta anche l'ironia con cui è presentato diciamo ecco e poi due punti di riferimento Bruno Accordi dal nostro lato eh professore insomma non ha bisogno di ulteriori parole e Nicoletta Morello ehm dal ehm punto di vista degli storici della scienza degli umanisti è stata la persona che veramente in Italia eh ha impostato questo tipo di studi che prosegue diciamo in un eh eh gruppo molto attivo che fa riferimento al professore Ezio Vaccari dell'Università dell'Insubria con cui abbiamo noi il piacere di interagire e collaborare da diversi anni e proprio in questo spirito proprio perché la frase di Vai e Cavazza che c'è il solco tra le due culture noi diciamo abbiamo la piccola soddisfazione nella nostra sezione di avere creato una eh integrazione tra i diversi approcci tant'è che finalmente la società geologica italiana tra i vari premi che attribuisce ogni anno ne ha eh indetto uno di cui si è tenuta la prima edizione proprio il premio Quintino Sella per la storia delle gestenze in onore di Nicoletta Morello e di Bruno Accordi e quindi diciamo simbolicamente una sutura laddove c'era un solco forse anche ecco le fonti vedete anche noi diciamo anche è chiaro i ricordi e commemorazioni sono di persone che non ci sono più però vedete anche un tipo di di approccio vedete che tipo di foto viene scelta per il ricordo di Silvio Bard a basso fatto no questo da Piero Leonardo e sceglie proprio un'immagine che a noi piace eh che cosa è successo è saltato non vedo più la presentazione scusa ecco scusatemi ehm queste immagini diciamo è rappresentativa un po' anche no dello spirito che forse rispetto ad altre società scientifiche che contraddistingue la società geologica italiana che seppur nelle divisioni che tra i geologi italiani non sono mai mancate né mancano né mancheranno mai ma uno spirito di corpo è è in dubbio e quindi ci sono ovviamente il centro di documentazione della società geologica italiana che è gestito dal centro CGT dell'Università di Siena a cui ovviamente tutti i soci possono accedere e poi anche la biblioteca Ispra dove sono costruiti veramente dei pezzi rari di cartografia e di 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 patrimonio eh bibliografico e poi un'altra fonte andiamo rapidamente che è il dizionario biografico degli italiani non so se tutti conoscete quest'opera ehm edita dall'istituto di enciclopedia italiana perché oh chiedo scusa è saltato prima in qualche modo non so mi dispiace però memory per lo screen non so come mai però evidentemente era qui sì mi dispiace ma è saltato da solo eccoci scusate il disguido quindi Treccani eh ha eh concepito questa è stata concepita da Giovanni Gentile quindi stiamo parlando di opera avviata nel 1925 che prendendo spunto da altri prodotti di altri paesi europei come la Algemeine Deutsche Biografie o il Dictionary of National Biography rispettivamente tedesco e inglese raccoglie eh diciamo nel libro d'oro degli italiani non c'è bisogno del dizionario biografico per sapere chi è Dante chi è Leonardo da Vinci chi è Giuseppe Garibaldi anche se sono ovviamente biografati ma dal nostro punto di vista l'interesse sta proprio nel dare spazio e visione a personaggi minori mentre se minori non di in senso di importanza perché magari di nicchia conosciuti all'interno di un ambiente eh circoscritto adesso il comincia finalmente è concepito nel 25 il primo volume pubblicato nel 60 finalmente si è conclusa quest'opera e con cento volumi con la lettera Z pubblicata e la cosa importante è che tutte queste voci sono liberamente consultabili online da diversi anni su dizionario biografico ed è diciamo sicuramente la fonte più di riferimento autoregola rispetto magari a una enciclopedia libera in cui non abbiamo certezza che ci sia stato un controllo redazionale come in questo caso addirittura siccome è cominciata negli anni 60 ci sono alcuni personaggi e diciamo non a caso ho scelto la lettera A ma insomma ci sono due personaggi locali di qua che a quell'epoca la pubblicazione della lettera A per loro fortuna erano ancora in vita e quindi c'è una sezione online che si chiama Italiani della Repubblica in cui personaggi illustri perché la regola è che diciamo il biografato deve essere scomparso da almeno dieci anni e quindi c'è anche questa sezione e se andiamo a vedere addirittura alcune voci del passato ci sono dei personaggi biografati da personaggi ancora più illustri qui abbiamo potuto un po' illustrare e vedete ecco che Bruno Accordi che abbiamo citato ha avuto un ruolo importante ma anche altri scienziati mi piace citare ecco Pietro Caloi che è stato uno dei persone importanti nella geofisica italiana nei primi anni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e qui anche ecco il motivo da cui diciamo anche nasce il nostro passione impegno su questo fronte è proprio aver cominciato a collaborare con il dizionario biografico e questo è un elenco di voci che sono state redatte diciamo da da noi afferenti alla alla sezione a partire da questa diciamo la prima che mi capitò di fare che è Carmelo Magia ma ultimamente ecco su quello sul dizionario biografico online anche l'onore diciamo e l'opportunità di biografare Renato Funicello che è stato il mio maestro e quindi che è mancato ormai più di dici anni fa e da che cosa abbiamo cominciato a ragionare abbiamo detto prima noi non siamo storici siamo abbiamo un approccio diciamo da autodidatti da amatori anche su questo tema abbiamo scelto dei fili conduttori proprio appunto partendo da questo ribaltamento del principio dell'attualismo e così di cominciare a dare il giusto tributo ai giganti su cui spalle camminiamo tutti diciamo anche perché queste cose hanno un attinenza non solo di carattere appunto di tipo di Amarcord ma perché poi la geologia deve essere una scienza che pienamente dovrebbe permeare le scelte politiche economiche no? e e sociali su vari fronti e quindi i vari fili conduttori i personaggi della geologia che hanno avuto un ruolo nel risorgimento no? ci fu un bel convegno proprio nel 2011 a Firenze a cui purtroppo non abbiamo potuto partecipare ma poi abbiamo detto anche ci sono delle capitali morali della geologia italiana no? Bologna che è famosa per varie cose quelle in alto a sinistra a destra ma diciamo ma anche no? per personaggi come Luigi Ferdinando Marsili Ulisse Aldrovandi o Giovanni Capellini e lo storico museo oppure qui questa c'era già prima non è stata preparata per piageria ma partendo no? da eh Carlo Navione che è uno diciamo dei padri della mineralogia e a altri vari personaggi che ben conoscete e quindi non c'è bisogno di affermarci ma anche Biella diciamo no? per che ci ha dato diciamo la dinastia della marmora e in particolare uno che è Alberto o Pisella oppure Feltre Feltre ci ha dato addirittura tre presidenti della società geologica italiana un piccolo centro del bellunese delle brevi bellunese eh o Catania con la lunghissima tradizione che parte da da Gioeni e arriva fino a personaggi dei giorni nostri o Trieste per la geofisica ma sono così spunti di riflessione diciamo ognuno ne potrebbe tirare fuori altri oppure anche Roma per la geofisica in cui c'è un personaggio molto particolare che è padre Angelo Secchi un gesuita a cui diciamo possiamo attribuire l'impulso alla nascita della eh sismologia diciamo gli studi sismologici a Roma o nella nostra città la geologia urbana che verso la fine del ventesimo secolo ha avuto due personaggi che sono già citato Funicello che hanno impostato l'approccio allo studio delle geologia delle aree urbane però poi prendiamo tutti dentro anche degli orundi equiparati chi comunque sul territorio nazionale ha lavorato dal danese il Stenzen Stenone Athanasius Kircher a Maria Gillyv Gordon Scozzese che è stata una delle prime donne rilevatrici nelle zone alpine e anche persone di altra estrazione che non sono geologi ma Fiorentino Sullo che è legato diciamo la fase importante di sviluppo no? della seconda edizione della carta geologica d'Italia negli anni sessanta è un politico ehm oppure Enrico Mattei di cui è in dubbio diciamo il ruolo trainante nell'avviare tra la fine degli anni cinquanta e sessanta molti giovani italiani agli studi geologici e anche un altro aspetto la toponomastica no? cercare tracce della memoria di studi geologici nei luoghi no? la punta alla marmora nel genergento oppure nella nostra città diciamo molte strade sono dedicate a geoscienziati e due parole per l'attività della sezione qui diciamo è un primo evento a cui eh ci siamo trovati tutti insieme che fu convegno nel duemilaquindici per il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale che abbiamo fatto al Muse di Trento con un'escursione che per chi vi ha partecipato è stata una bellissima esperienza nel marzo del duemilatredici è stato avviato ehm il blog su appunto è stata un'idea eh di Marco di comunque cominciare prima anche di avere un sito il blog Geo Italiani che magari qualcuno di voi ha già consultato e se non lo avete fatto eh vi invitiamo veramente caldamente a seguire quello che c'è e poi noi siamo comunque diciamo e parlo soprattutto per me sto bene tra le persone del ventesimo secolo quindi nel ventunesimo mi ci trovo un po' a disagio ma insomma i social network è chiaro che è un veicolo di di eh diffusione dell'iniziativa soprattutto tra le persone più giovani mi fa piacere anche vederne oggi qua con noi perché altrimenti diventa un esercizio autoreferenziale in cui parliamo eh tra persone tutti coi capelli grigi di recente eh questo ci ha lavorato Marco Romano ad attivarlo abbiamo anche un piccolo eh canale youtube che si sta arricchendo e qui e quindi ehm su cui eh alcuni degli eventi abbiamo cominciato a registrarli proprio da quando non non si fanno più attività in in presenza ovviamente ci sono degli aspetti che attirano no? Uno dei post che ha avuto più più interesse è quello quando c'è il quattro di dicembre che è Santa Barbara padrona di metà delle categorie possibili diciamo dai minatori ai vigili del fuoco anche geologi e questa è una cosa che comunque eh attira l'attenzione scalda il cuore e qui ecco una piccola carrollata delle attività fatte se andate sul sito trovate perché abbiamo cercato sempre poi di cristallizzarle in dei volumi fino dal primo convegno del duemiladodici fino recentemente la scorsa settimana al workshop che si è tenuto in coda al convegno al novantesimo convegno SG virtuale di di Trieste eh un'altra attività di che ci ha affidato l'attuale presidente Sandro Conticelli è di creare un repertorio di biografie dei presidenti della società geologica e quindi abbiamo creato informalmente questo gruppo di lavoro mented malle o vedete qui ehm tutti coloro che hanno contribuito diversi sono anche qui in sala e colgo l'occasione diciamo a nome di tutti i colleghi per ringraziare chi ha aderito a questo progetto adesso già quelle voci ehm redatte sono già pubblicate sul sito della società geologica italiana siamo quasi a due terzi contiamo che magari per il settembre prossimo eh possa essere no questo confluire in un volume e la cosa importante anche nel commemorare le attività della società è proprio anche il il ruolo che le riunioni estive le escursioni e diciamo hanno avuto anche nel creare e cementare diciamo l'attività di team building e quindi anche queste cose sono messo in un aspetto da tenere in considerazione eh queste appunto sono le le schede dei presidenti di una delle ultime pubblicate è quella proprio di Alberto Perlu che hanno fatto proprio Luca Barale e Pietro Mosca e quindi ecco l'ultima cosa che vogliamo dire è che appunto nati il duemiladudeci il duemilaventidue eh compieremo dieci anni di attività e nostra intenzione diciamo organizzare un'attività e ci piacerebbe molto l'abbiamo già proposto a professor Carosi diciamo anche se possa trovarsi magari vediamo uno uno spazio nel prossimo congresso della società geologica italiana e poi chiudo diciamo con un invito al reclutamento quindi diciamo a a chi non è socio della società geologica italiana di iscriversi è un costo contenuto ma ti dà accesso a tutto il patrimonio di informazioni ci si sente per noi ricordiamo noi da studenti diciamo fu veramente un momento di eh cominciare a sentirsi parte di di una comunità far parte della società geologica e se aderite alla società geologica aderite anche alla nostra sezione grazie passo la parola a Marco Pantaloni adesso ci sarà una parte introduttiva al l'intervento conclusivo di Marco Romano su Dante e qui andiamo il nostro modo in maniera molto sintetica a fare una piccola carrellata dello sviluppo delle conoscenze geologiche da prima ancora della geologia passo